Benvenuti su Matteo Giuliacci. Il tempo previsto per Pasquetta. Bene, notizie eccellenti per chi ha deciso di fare gite fuori porta o per i vostri barbecue o picnic all'aperto. Infatti lunedì sarà una giornata splendida su tutta l'Italia, con poche nuvole solo limitate ad alcune regioni, ma diciamo sereno quasi su tutta l'Italia, come potete vedere infatti da questa mappa e per di più le temperature saranno gradevoli, non farà né troppo freddo né troppo caldo o a fa nelle ore centrale del giorno. Quindi più di così non potevamo offrirvi. Un caro saluto ancora da Maria Giuliacci.